e lo quindi come amo so dire per quanto riguarda questa gestione del suo contattatore del tutto questo è il villaggio, questo è il villaggio, non si è il contatore in questo villaggio siamo sostanzialmente da prima in questa strada privata di chiamare, il suo contatore che bada in questa strada di fiamare, è uno contattore unico, contattore unico del Senel, Senel bada tutte le persone che si intettano e da voi tutte le persone che si intettano tutte le persone che si intettano con questa pensione che lea da sviluppato da voi andassi l'affitto e nessuno tutte le persone che si intettano lettera lettera, cassetta, con nomi diversi con nomi diversi e quando andano all'affittare da voi i noga il suo contatore di sicuro dei noga non è singolo invece i noga non lo visco se si non ha dato, però io te bada sul nomi diversi prodotti di persone, ma in noga invece il suo unico appaltamento, il suo unico intattato è uno e questo si vuole permettere di pagare questa tipologia di cosa, di assegnare un contatore pro, quindi che appartamento è l'affittare che il pagare nuda, dei contributi sono nuda in questa zona in noga grazie a tutti